Salve a tutti, oggi vi faremo vedere come settare la home page del vostro internet explorer Per questa prova utilizzeremo la versione 9, ma il tutorial è valido anche per le versioni precedenti Andiamo ad aprire il nostro internet explorer Allora, qui già abbiamo selezionato di default la home page di MSN Per cambiarla andiamo in alto a destra su questo piccolo ingranaggio Clicchiamo e selezioniamo opzioni internet Da qui, nella scheda generale, che di solito è la prima che viene aperta Potremo cambiare la nostra home page Di standard c'è già l'home page dell'MSN Per cambiare la nostra home page basterà cancellare la scritta E scrivere un nostro qualsiasi sito noi vogliamo mettere come home page Cliccare applica e poi ok Chiudere il browser e poi riaprirlo E come per magia avremo la nostra home page Ci sono anche altre opzioni che possiamo selezionare Ritornando sulla schermata delle opzioni internet Possiamo vedere che più in basso ci sono tre pulsanti Il pulsante pagina corrente ci autoseleziona come home page La pagina che stiamo visualizzando all'interno del nostro browser La pagina predefinita ritorna alla pagina originale Cioè, nel nostro caso, quella di MSN Oppure potremmo avere una pagina vuota Che è una pagina totalmente bianca Non è un sito internet E questa può essere utile per velocizzare l'apertura del nostro browser Oppure, se lo utilizziamo per altri scopi Che non siano quelli della normale navigazione Con Internet Explorer è possibile avere anche più home page La cosa è molto semplice ed intuitiva Se all'apertura del nostro browser Vogliamo avere più pagine aperte in contemporanea È sufficiente premere un invio E scrivere un'ulteriore riga In cui metteremo un altro sito internet Magari anche lo stesso Premere applica ed ok E riavviare browser E possiamo vedere che ci aprirà entrambe le pagine all'avvio Questo tutorial finisce qui Adesso rimettiamo a posto tutto quanto E spero che il video vi sia stato utile Iscrivetevi al canale E un salutone a tutti quanti